Allora, la situazione non è delle migliori, noi come azienda siamo molto positivi perché abbiamo lavorato abbastanza sia durante il Covid che nella fase post-Covid, però il nostro, essendo un prodotto progettato che parte comunque da una piantina, da un progetto che sviluppa un design, un architetto, ha fatto sì che abbiamo lavorato, abbiamo lavorato molto i progetti, però non nascondiamo che non sono arrivate le conferme. Cioè, nel senso, abbiamo lavorato tanto al nuovo, il vecchio, quello che era una fase pre-Covid, si è fermato, non tutto è andato in porto. Adesso, in questa fase di settembre, ottobre, novembre, speriamo e siamo certi che arriveranno le conferme di tutto il lavoro svolto da aprile fino ad agosto. Lavorate anche molto con l'estero, la situazione dell'export com'è? Sì, infatti mi riferisco proprio all'estero perché la nostra azienda lavora l'80-90% all'estero, quindi tra che noi ci siamo bloccati prima dei mercati dove esportiamo, loro hanno riniziato a metà giugno, fine giugno e poi erano riniziato magari anche in condizioni peggiori delle nostre, non si è potuto fare molto appunto in termini di conferme, di definire il progetto. Quindi siamo ottimisti per questo, diciamo, fine estate, inizio autunno che rientrino i lavori svolti nei mesi scorsi. Una nota che vorrei fare è che comunque anche gli imprenditori che sono nelle nostre stesse condizioni devono essere ottimisti e positivi, più che ottimisti, positivi, perché comunque se l'Italia riparte, deve ripartire comunque dal tessuto artigianale, dal nostro terziario, che è quello lì che crea il motore di tutto. Quindi forza, coraggio e cerchiamo di aiutarci, di spalleggiarci, perché se mogliamo noi, non so l'economia italiana come può risorgere. Quindi con positività cerchiamo di far risorgere l'economia con il lavoro e con l'aiuto tra noi imprenditori. Un'ultimissima cosa, dopo questo bel messaggio, vi occupate soprattutto di cucina e di lusso, quindi parliamo di un range medio-alto per non dire semplicemente alto. Sì, sì, noi chiamiamolo lusso ma a noi ci piace usare la parola bellezza. A noi ci piace produrre prodotti belli, belli da vivere, belli da vedere, belli da toccare. Quindi supererei un po' il discorso del lusso, che a volte può sembrare in certe tipologie di clienti una cosa un po' cafona. No, ci piace il bello. Quindi ci piace produrre prodotti dall'alta tecnologia, ma prodotti da mani sartoriali dei nostri appunto artigiani e prodotti soprattutto belli. E' per quello che lavoriamo con designer, architetti, per fare comunque prodotti unici, anche se si parla di cucine, ma uniche, dal grande impatto estetico ed emotivo per il cliente che poi se le mette in casa, perché vengono prodotte esclusivamente per loro.